2 2 3 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 8 10 7 11.21 in tempo e ci affidiamo alla rotofidice, stava rimontando Graziano, è partito velocissimo allo sparo, forse ha perso Graziano proprio in partenza, non sappiamo se è stato in grado di recuperare.